Sarà un inizio d'anno condito da freddo, vento e neve, quello della campania. Le previsioni per i prossimi giorni parlano di temperature sotto la media e la neve oltre i 900 metri. In queste ore il comune di Napoli, con l'assessorato al welfare diretto da Roberta Gaeta, ha varato il piano antifreddo per i barboni. Stazioni delle metropolitane aperte anche di notte, così come i sottopassaggi. Un modo questo per dare riparo a chi vive per strada, aperte anche le mense della comunità di Sant'Egidio per i senza tetto e i senza fissa dimora. Di iniziative simili anche nei comuni limitrofi al capoluogo campano, a Giuliano ad esempio, consegnate per Capodanno pizze durante la notte di San Silvestro ai Clochard. L'idea è nata agli imprenditori Antonio Mallardo e Giuliano Cimmino della catena di pizzerie giorni take away. Sì, giorni anche vicino alle persone. Alle ore 21 a piazza Matteotti a Giuliano, con il nostro Apecar itinerante, siamo presenti lì per omaggiare le vizie a portafoglio alle persone che in questi giorni festivi hanno bisogno della nostra vicinanza. I giorni api è anche questo solidale, stare vicino alle persone che in momenti di difficoltà, noi strappiamo un sorriso e regaliamo qualcosa di diverso dal normale.